Politica e libertà di informazione, un rapporto spesso conflittuale ma fondamentale per poter informare i cittadini di quanto accade nei luoghi di potere. In passato troppo spesso l'informazione è stata contigua alla politica ma da qualche anno, ha dichiarato il presidente dell'ordine Stefano Pallotta, l'informazione ha smesso di essere una costola della politica che spesso mostra i muscoli contro i giornalisti piuttosto che contro poteri che realmente creano problemi come la burocrazia o gli editori. A suscitare la reazione di Pallotta, un passaggio del presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, nel corso del suo discorso di fine anno. Credo che chi faccia il giornalista abbia come obiettivo quello di far conoscere la verità, ha dichiarato il presidente Pagano. Più che ricerca della verità, ha ribattuto Pallotta, penso che l'attività sia rivolta alla ricerca dell'obiettività che può essere raggiunta solo attraverso un pluralismo dei mezzi di informazione. Il rapporto è conflittuale, in alcuni momenti diventa anche molto duro, molto pesante. Si può intervenire facendo un'analisi e un confronto tra informazione politica sui problemi, sui problemi del pluralismo dell'informazione, sui problemi dell'autonomia della stampa. Autonomia a cui i politici non sono storicamente abituati, perché in Italia, questo lo dico con molta pagatezza, senza alcun intento polemico, in Italia la contiguità tra informazione e politica è dimostrata, è dimostrata da studi, è dimostrata dai fatti. E allora da qualche anno l'informazione cerca di rompere questo rapporto molto stretto con la politica e la politica è un po' insofferente. Quindi le prove di forza muscolare nei confronti dell'informazione e dei giornalisti si ripetono in continuazione. E allora confrontiamoci su questi problemi, confrontiamoci, vediamo se il pluralismo dell'informazione e l'autonomia siano funzionali alla democrazia e allo sviluppo del Paese oppure no. E' su questi problemi che bisogna interrogarsi e su queste cose che bisogna riflettere.